Salute a tutti, sono Alex Visani, non so quanti di voi mi conoscono, quanti di voi mi seguono, ma io sono essenzialmente un appassionato di cinema horror, che scrive da anni nel suo sito, ha un indirizzo www.alexvisani.com, il sito è del Regno of Horror, e che ama parlare di cinema horror a 360 gradi, dai titoli più noti fino ai cosiddetti So Bad It So Good, ovvero le pellicole immondamente trash. Spero prima o poi di riuscire a vincere questo imbarazzo che ho di fronte alla videocamera. Lo spazio che mi sono dettagliato su YouTube e che ho chiamato Stay Horror sarà una specie di contenitore attraverso il quale io parlerò appunto di cinema horror, trattando diversi titoli, da quelli più noti a quelli più recenti, a quelli di prossima uscita, fino a parlare di titoli più sconosciuti, caduti nel dimenticatoio, film di serie C, serie Z, o qualsiasi etichetta voi vogliate darvi. Oltre questo, vorrei cercare di ampliare i contenuti di questa, chiamiamola, dobbiamo via web, parlando anche di registi, di filoni cinematografici, di curiosità, ma anche di festival di rassegni, di libri, di fumetti, videogiochi, di arte, di cultura e tutto rigorosamente horror. Allora, l'indirizzo che vedete qui in sovraimpressione è chiaramente il mio indirizzo di posta, al quale spero voi scriviate sempre più numerosi, magari facendo le vostre osservazioni o facendo le richieste, titoli da trattare in particolare, film di cui vorreste che io parlassi. Parlerò anche dei cortometraggi, cortometraggi che riguardano sia la scena indipendente italiana che quella estera. Ho già, diciamo, una selezione di titoli da trattare, di autori da trattare, ai quali spesso e volentieri spero di riuscire a fare anche delle videointerviste, ma se voi siete appunto dei cineasti che vogliono mettere in luce il loro lavoro, vogliono semplicemente che io lo visioni e ne parli, semplicemente oltre che scriverne nel mio sito, contattatemi, inviatemelo e io provvederò. Entro la prossima settimana credo di mandare l'episodio 1 di Stay Horror su YouTube e niente, ciao!